L'eccellenza di Castiglione Fiorentino in vetrina, la nuova edizione del Maggio castiglionese, un mese ricchissimo di eventi che si è inaugurato con l'apertura simbolica di Porta Fiorentina da parte del sindaco e dei suoi assessori. Un Maggio che vede anche la cultura al centro delle nostre iniziative, simbolica è anche la presenza del vice console cinese che è venuto qua anche per salutare gli studenti della North China University che sono presenti assieme agli studenti della Texas A&M University, quindi un ponte simbolico da Castiglione Fiorentino verso gli Stati Uniti e verso la Cina. Il Maggio castiglionese affronta con questa nostra economia locale le problematiche di questo periodo, forte anche dell'entusiasmo e della volontà delle imprese locali che pur attraversando questo periodo di crisi hanno deciso di dare una mano non solo simbolica ma anche pratica alle iniziative dell'amministrazione comunale. Un cartellone che è ricco di eventi. Sì abbiamo cercato di valorizzare quelle che sono le cose principali del nostro territorio dall'enogastronomia con il coinvolgimento dei ristoranti e del progetto Castiglione in Tavola che è la seconda edizione, accanto a questo abbiamo inserito degli eventi che come dal titolo Viviamo Castiglione Fiorentino vogliono far sì che il nostro territorio possa essere vissuto nelle nostre piazze, nel nostro centro storico e nella sua interezza. Durante questo Maggio castiglionese anche il brainstorm di cosa si tratta? Il brainstorm è un'idea che ormai siamo alla quarta edizione, proponiamo questa miscela di artisti che vengono qui per un giorno ad esibirsi, l'idea è quella di fare tanti laboratori, quest'anno sono 33, che coinvolgano il pubblico, quindi l'idea è proprio quella di far partecipare il pubblico a queste varie discipline. Quindi quest'anno facciamo una cosa un po' diversa, ovvero abbiamo rovesciato il nome brainstorm, si chiama appunto al contrario, perché vorremmo che dal pubblico partisse l'input per l'artista per fare l'esibizione. Ve ne faccio un esempio, vedrete in una piazza, in piazza del comune domani un gruppo di musicisti muto, un leggio davanti con le note e lo spartito e chiunque si potrà avvicinare e dare il là agli artisti per farli suonare. Quindi ecco l'idea di far diventare il pubblico protagonista di questo evento. Grazie a tutti.